Salvi i punti nascita di Cavalese e Ecles, ma non quello di Arco. È la risposta inviata alla provincia dal Comitato percorso nascita nazionale, relativa alla richiesta di deroga al mantenimento dello stesso punto nascita. Le deroghe accolte hanno riconosciuto le difficoltà legate alle caratteristiche orografiche peculiari dei territori di Cavalese e di Ecles. A pesare per la bocciatura di Arco è stato il basso tasso di fedelizzazione, 64%, e la vicinanza con Rovereto sia in termini chilometrici che viabilistici, se non si considera il traffico estivo. Per la nostra comunità è una vera doccia fredda. Non voglio mettere in dubbio la bontà delle scelte a Romana, ha dichiarato il sindaco di Arco Alessandro Betta, ma non comprendo perché gli altri due ospedali si possano salvare e il nostro no. Forse c'era da aspettarsi questa chiusura, non che gli altri due reparti fossero salvati però. Sulla stessa lunghezza d'onda il primo commento a caldo di Mauro Malfer, presidente della comunità Altogarda e Ledro. Non capisco le motivazioni di questa decisione, ma ne prendo atto, ha affermato Malfer. Certo, si tratta di una grave perdita per tutto il territorio. C'è qualcosa che non mi torna. Ancora una volta siamo figli di un dio minore, ha commentato il sindaco di Tenno Gianluca Frizzi. È un'ulteriore sconfitta per un territorio che rappresenta un motore essenziale per tutto il Trentino. E credo che vada avviata al più presto una profonda riflessione sul nostro peso politico, laddove si prendono veramente le decisioni. Noi lo dicevamo da mesi, loro hanno sempre negato, ha commentato Giovanni Rullo, consigliere del Movimento 5 Stelle. Questo è il risultato di politiche scellerate sulla salute dei cittadini. I dati che abbiamo raccolto, però, contraddicono quelli del Ministero, che parlano di scarsa fidelizzazione. Dal 2011 al 2015, infatti, 1.320 bimbi di Arco e di Riva sono nati ad Arco, ovvero il 70%, mentre solo il 30% di loro ha visto la luce a Rovereto, Trento e in altri ospedali. Sulla questione abbiamo intervistato l'Onorevole Mauro Ottobre. Onorevole Ottobre, l'ospedale di Arco chiude il reparto di ostetricia e ginecologia, quindi il punto nascite. Cosa ne pensa? Penso che Roma, il Ministero, ha salvato Cavalese, ha salvato Cless. Ora la nostra autonomia può salvare Arco, perché la competenza della sanità è una competenza provinciale. È evidente che quello che non è competenza provinciale, invece, è la sicurezza dei cittadini. Quindi la norma parla chiaro, al di sotto di 500 parti, bisogna garantire un minimo di standard di sicurezza. Allora, come fare? Visto che Arco non raggiunge questi obiettivi, semplicemente basterebbe aumentare il personale come l'indicazione del protocollo nazionale. È quindi evidente che il servizio rimaneva in piedi. Ma quello che mi dispiace, che qua non si capisce che è un territorio molto importante, che sono circa 50.000 abitanti, che abbiamo una problematica della viabilità enorme, che è un territorio che fa 3 milioni di turisti, e pensare che la viabilità, che ci vogliono a volte 3-4 ore di coda per raggiungere il rovereto, insomma, non possiamo pensare di far partorire le nostre donne in elicottero o in ambulanza. Quindi anche questa cosa, io farò immediatamente un'interrogazione al Ministro per far schiarire anche queste cose, però credo che l'autonomia provinciale, la nostra autonomia, può salvare il punto. Basta mettere più risorse. Anche oggi, basta leggere, hanno trovato 4 milioni di euro per fare la promozione turistica sul vino, per carità, anche questo è da fare. Io credo che con molto meno di 4 milioni possono tenere aperto questo servizio di maternità. Ricordiamoci che non è solo un servizio per l'Alto Garda, ma anche persone fuori del Trantino, Limone, Malcesine, sono sempre venute da noi. Altro dato molto importante che non dobbiamo dimenticare è che il nostro territorio in termini di spendi di review, in termini di costi, ha già dato tanto di risparmio di costi. Abbiamo chiuso l'ospedale Riva del Garda, abbiamo chiuso l'ospedale Le Palme, quindi noi non possiamo essere sempre, con un pallo da cittadino di arco, essere sempre quelli che mettono a disposizione e che dobbiamo dare solo noi e basta. Insomma, qui noi il territorio ha già dato abbastanza. Il problema è che questo territorio non è degnamente rappresentato in provincia di Trento. Ormai sono decenni che non abbiamo un assessore provinciale e qui si vede la differenza. Cavalese ha un assessore Gilmozzi, in Val di Nonno e in Val di Sole hanno il presidente Rossi, l'assessore Daldos, il senatore Panizza e tutti quanti, un sacco di consiglieri provinciali. Quindi noi non possiamo pretendere che 50.000 abitanti è un territorio così poco rappresentato da Trento. Quindi qui noi dobbiamo abituarci a fare più squadra, a pensare che anche nell'edizione del 2018 dobbiamo andare su una flotta di persone che rappresentano degnamente questo territorio, a partire dalla sanità, a partire dal turismo, che così non può essere gestito, che il turismo crea occupazione e ricchezza, ma come sapete siamo in condizioni veramente, io dico che siamo tornati indietro di vent'anni purtroppo che le cose non funzionano. La provincia quindi potrebbe in qualche modo tenere aperto il reparto? È una scelta solo di denaro, una scelta di risorse, bisogna, se non si raggiungono i 500 parti, la provincia deve intervenire aumentando il personale specializzato per garantire comunque questo servizio. Mauro Tobre è anche presidente del Consiglio Comunale, il Comune si muoverà in qualche senso, in qualche modo? Beh, sicuramente il Consiglio Comunale di Arco dovrà affrontare il tema. Arco deve dire la sua voce nei confronti della provincia, e io credo che questa provincia sono più ragionieri che politici, questo è evidente, perché trattano la sanità evidentemente come una latteria, tanti litri, tante bottiglie e così non può essere. Quindi credo che il Consiglio Comunale di Arco presto si sarà chiamato a discutere di questo tema. e quindi andrà su. Grazie a tutti.